Organizzato da ConfCommercio si è tenuto il convegno Il Turismo e l'Abruzzo, un'opportunità per confrontarsi, condividere idee e tracciare percorsi di sviluppo in un contesto che promette di rilanciare l'Abruzzo come meta di eccellenza per i turisti di tutto il mondo. Esperti e operatori del settore hanno discusso le potenzialità e le sfide del turismo nella nostra regione con un focus particolare sul settore balneare, che rappresenta un asset fondamentale per l'economia locale. È una situazione buona, i pubblici esercizi hanno una rete diffusa, ci sono qualche migliaio di imprese, 40.000 addetti, tra cui 30.000 dipendenti, quindi è un settore vivace, vitale, si creano nuove imprese ogni anno, purtroppo anche alcune cessano l'attività, ma la cosa importante è puntare nel turismo al valore della ristorazione come elemento di attrattività del territorio. Oggi il turismo è sempre di più, come si dice, un turismo esperienziale, per dirla in una battuta nessuno va in un posto solo per dormire, altrimenti se ne starebbe a casa propria, e la ristorazione può fare molto, soprattutto verso il turismo internazionale, che è molto sensibile al cibo italiano, oggi nel mondo tutti vogliono mangiare italiano, in questo caso potremmo dire abruzzese. Ma il presente e il futuro del turismo in Abruzzo dovremmo determinarlo noi, con gli enti locali che detengono un importante ruolo sui destini dei nostri territori. Il futuro di un turismo è il futuro di un sistema economico, un futuro che riguarda non solo gli operatori ma tutto l'indotto, è il futuro che riguarda anche i segnali che la domanda turistica negli ultimi anni stanno cercando di darci, sono dei segnali diversi che stabiliscono anche una geografia diversa delle presenze e degli arrivi durante l'arco di un'annualità o di una stagione. Ma non si può parlare di turismo se non si affronta la questione della balneazione, è stato un errore per esempio anche al G7, anche nel forum preparatorio del G7, non aver affrontato questa questione che è cruciale per il turismo del nostro paese, il 38% è balneare, quindi se salta il balneare salta l'intero turismo. L'Abruzzo sta cercando di investire su tutto il territorio nazionale, non solo nazionale ma anche internazionale, ma se non risolviamo il problema delle concessioni demaniali sarà un bel problema. Come lo promuoviamo l'Abruzzo senza le infrastrutture balneari? Punto di domanda. Noi vogliamo costruire insieme alla politica un progetto giuridico, un titolo demaniale che possa essere forte, che possa consentire alle imprese di poter fare investimenti veri e continuare a fare questo mestiere. Questo mestiere è diventato un brand, la balneazione è attrezzata italiana, è unica nel mondo.